Il Catania per il primo posto, il Trapani per restare incollato all'alta classifica. A Rosso Azzurri e Granata le motivazioni certo non mancano, davanti a un pubblico delle grandi occasioni al Provinciare si rischia il tutto esaurito con circa 700 supporter etnei al seguito della squadra di Lucarelli. Stasera si sfideranno due delle squadre più in forma del campionato. Imbattuto da sette turni, il Trapani proverà a mantenere l'imbattibilità casalinga. La squadra di Calori davanti al suo pubblico ha lasciato solo quattro punti agli avversari e in casa non perde da quasi sette mesi. L'ultima sconfitta del Granata al Provinciale è datata 13 maggio. Lontano da casa, dove ha messo insieme ben 15 punti, il Catania invece è secondo solo al Siracusa, ma la sfida di questa sera metterà di fronte anche il miglior attacco, quello del Trapani a segno già 28 volte, e la migliore difesa, quella del Catania, che nelle 15 gare fin qui giocate ha subito solo nove reti. Le stesse di Napoli e Roma. Due squadre dunque in salute, come detto, che faranno di tutto per superarsi. Nel Trapani mancherà solo Capitano Pagliarulo, mentre Lucarelli ha l'imbarazzo della scelta. Visti i risultati delle ultime settimane, il tecnico Livornese non dovrebbe cambiare modulo, anche perché il 4-3-3, oltre a garantire copertura, assicura al Catania, lo dico nei numeri, anche una maggiore forza offensiva. Nelle ultime cinque gare i rossozzurri hanno realizzato infatti la metà delle 26 reti totali. Con Lucarelli però nulla è scontato, uno schieramento a specchio contro Egrenata non è da escludere a priori. Per la formazione, come sempre, bisognerà però attendere l'immediato pre-gara. Nel Trapani, Calori conferma il 3-5-2, modulo che in qualche occasione è risultato indigesto alla squadra di Lucarelli. Fischio d'inizio alle 20.45, al provinciale arbitrerà il signor Pontedera di Bologna. Due tifosi del Catanzaro, uno maggiore nell'altro di minorità, sono stati denunciati dalla Digos della Questura di Catania, il primo per essersi reso responsabile del lancio di un petardo e dell'accensione di un fumogeno, il secondo dell'accensione di un fumogeno all'interno del settore degli ospiti. I fatti si riferiscono alla gara Catania-Catanzaro dello scorso mese di novembre. Nei confronti di due è stata avviata la procedura per l'adozione del provvedimento d'Aspo. Grazie.